Domenica 4 giugno alle 18 alla palestra Toscanini di Prato andrà in scena a gara 5 della finale playoff tra Ame, Scuola Baschetta Rezzo e Sibe Prato. Dopo quattro battaglie la promozione in Serie B infatti non è stata ancora assegnata e Amaranto dovranno fare a meno di Federico Fornara, giocatore capace di mettere a referto oltre 16 punti di media in questi playoff, oltre ad aver realizzato le due super triple che hanno mandato KO in semifinale Lucca. Purtroppo infatti l'infortunio patito già nel secondo quarto di gara 4 non permetterà al giocatore Amaranto di scendere in campo. Proprio questa assenza darà ancora maggiore determinazione ai compagni nel cercale e rimpresa di violare il parchè della palestra Toscanini al cospetto di una squadra che mercoledì con la vittoria ad Arezzo ha dimostrato tutta la sua solidità ed esperienza. Sarà possibile seguire la diretta streaming della partita nella pagina Facebook della pallacanestro Prato Dragons.